Le missioni a Roma dell'amministrazione comunale di Gela in merito alla vicenda Eni hanno prodotto solo briciole, lo dice il deputato regionale di Forza Etaria, il gelese Pino Federico. L'ultimo caso è quello del progetto Piattaforma Prezioso K. Il colosso industriale, come si ricorderà giorni addietro, ha annunciato di rinunciare alla costruzione della maxipiattaforma alla largo delle coste gelesi, optando sulla costruzione di impianti a terra per il trattamento del gas, il cui impegno in termini economici, dice Sempreni, non si discosta molto da quello della piattaforma. Da 16 mesi c'è un tavolo aperto al Ministero formato dal sindaco e dal vice sindaco, dal governo regionale, ma portano soltanto delle dismissioni e del disimpegno da parte dell'Ene nel nostro territorio. Adesso è arrivato il momento, se questi signori non sono interlocutori seri, credibili, su quel tavolo, ebbene, devono allargare, non può essere la sorta della città, non può essere in mano a interlocutori che non riescono neanche ad avere un peso su quel tavolo. Il deputato di Forza Italia lancia una proposta. Signori dell'Ene, noi veramente avevamo un'azienda che qualche anno fa aveva 10.000 addette, circa 20 anni fa, poi siamo scesi a 3.000 addette, adesso l'azienda che abbiamo qui, l'Ene, ha soltanto, per quanto riguarda la raffineria, a circa 300-400 persone. Scusate, ma se dovete fare tutti, parlate di reinvestimento, ma tutte quelle aree che sono state, per la presenza delle industrie, sono state inquinate. Adesso il progetto che deve portare avanti, a mio parere, questa città è uno e uno soltanto. Bonificateci tutte le nostre aree, una parte, l'80% di quelle aree che servivano alla raffineria, bene, e a mio parere non servono più alla raffineria per l'investimento che stanno facendo ora. Quindi devono essere bonificate e devono essere restituite alla città, in modo che sia in condizione la città di reinvestarsi un nuovo sviluppo economico. E questa è la realtà, non posso tenersi 50 ettari di terreno, non so quanti sono, per soltanto un piccolo e bianco, perché quello che stanno costruendo è un piccolo e bianco. Per cui dico, portate agli interlocutori, che purtroppo sono il Presidente della Regione, il Sindaco di Gela e il Vice Sindaco, portate alla proposta di un grande piano di bonifica del nostro territorio, in modo che quelle aree vengano restituite al nostro territorio e la città li può utilizzare in modo anche diverso. Significa, perché quando si parla di ridisegnare un nuovo sviluppo economico, ma abbiamo bisogno anche di aree. Noi abbiamo un Eni che comanda, perché l'interlocuzione che c'è, mi sa, su quel tavolo, l'interlocuzione politica è poco credibile, sicuramente non ha una valenza, una forza di rappresentanza del nostro territorio. Comanda lo stesso, ma comanda dicendo soltanto che portando a disinvestimento su questo territorio. Signor Sindaco, è tuo dovere portare i risultati a questa città? Chiacchiere, non ne vogliamo più, sono passati tanto tempo.